Avete visto che casa Filippo Bisciglia? Lusso e minimalismo per il conduttore di Temptation Island. La casa di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è una perfetta combinazione di lusso e minimalismo. Colori neutri, spazi ariosi e molti pezzi di design. Il punto forte è sicuramente la splendida terrazza panoramica con vista su Roma, ideale per rilassarsi durante le pause dagli impegni TV. Nella zona living la coppia ha scelto un grigio cemento chiarissimo. Per la parete della TV però, punto focale della stanza, Pamela e Filippo hanno preferito un nero intenso dall'anima glam rock. Tanto argento ad illuminare l'ambiente, dal grande specchio rettangolare al lampadario di design con bulbi in stile anni 70. Azzeccatissima anche la scelta delle iconiche sedute trasparenti di cartello, Ghost. Grazie. Grazie. Grazie.